Buongiorno a tutti, oggi faccio un altro video in esterna, vi voglio parlare del nuovo design. Sono venuto all'Eur e ho fatto un po' di foto che vi faccio vedere. Questo quartiere continua sempre a stupirmi, nonostante ero con uno scambionadito oggi sono andato in un posto a casa, mi sono fermato, sono sceso dalla macchina, ho passeggiato due minuti e ho trovato un sacco, un sacco di foto da fare. Quindi ricordiamoci sempre che vicino casa nostra è sempre pieno di posti incredibili, basta magari saperli cercare. Ora vabbè, per carità, questo è un quartiere un po' particolare che è costituito tutto secondo una sua logica e quindi secondo me anche per questo è molto fotografico, molto interessante da fotografare. Tant'è che qui è pieno, adesso sono passato e ho trovato, in questa passeggiata di una mezz'oretta, ho trovato ben tre set fotografici, due fotografi professionali che stavano facendo dei servizi e un gruppo che era il bambino di un corso di fotografia perché erano in tanti, tipo le macchine fotografiche, a scattare a una modella, credo, che avevano riflettori e invece mi sono dedicato a fotografare un po' il quartiere, ad allenare un po' lo sguardo, ad allenare un po' la composizione vera e propria. Qui, diciamo, di linee ce ne sono tante e troppe, quindi insomma andare a fare questo tipo di fotografia mi piace molto. Spero si senta bene perché c'è un po' di vento, ho messo questo qui sempre con un po' di dead cat sopra e vediamo come funziona. Io volevo in realtà parlare del mio nuovo zaino della Lowe Pro, Freeline BP350AW. AW sta per All Weather, sono abbastanza sicuro, c'è un zaino in teoria impermeabile, è comunque già abbastanza impermeabile di suo effettivamente, ma ha una copertura che si può prendere. Io volevo appoggiarmi da qualche parte, vediamo se trovo un posto dove appoggiarmi. Intanto c'è una bella foto da fare qua, secondo me, sac, che dite? Non so se si intravede il Palazzo della Civiltà del Lavoro intorno a questi alberi, che si scorge da questi alberi. Questo invece è il Salone delle Fontane e qua siamo in questo parco. Eccoci qua, non ricordo come si chiama questo parco, ma magari lo cerco, lo vedo, ah, laggiù c'è pure una fontanella, una sola. Un attimo, eh, arrivo, qui c'è un muretto, un appoggio sul muretto. Ecco, c'è pure un albero tagliato dove forse posso appoggiare voi così state un pochino più in alto. Vedete, gente che fotografa, ah, stavo facendo una cosa con la pioggia, una cosa con la pioggia, e, no, qui è basso il muretto. Lo levo, eccolo qua, ha le aperture qui, diciamo, anterioni, ha una bella apertura sopra, questa non sta grande, c'è un po' di roba, ma la particolarità di questo zaino, il motivo per cui a me piace molto, adesso senza scendere troppo nei dettagli, sono le aperture laterali. Io amo le aperture laterali perché posso prendere le cose nello zaino senza doverlo togliere. Quindi praticamente prendendo lo zaino così e prendendolo in questo modo riesco ad accedere, lo faccio vedere, e al contenuto dello zaino. Adesso c'è un sacco di cose qua dentro e l'altra particolarità di questo zaino, a parte viene fornito con questa, molto carina, diciamo, una borsetta con tanto di sopra trasparenti e divisori. La particolarità di questo zaino, ora senza riuscire a far cadere tutto, è che tutti i divisori interni sono riposizionabili, cioè sono tutti attaccati con il velcro ai due stradi interni, questo e questo, che sorreggono tutta quanta la struttura. E l'altra cosa che ovviamente ora non posso farvi vedere è il fatto che le due parti che reggono tutto quanto sono staccate dallo zaino, sono praticamente un inserto dello zaino. Questo vuol dire che in teoria da sopra, una volta svuotato tutto quanto, è possibile... Ops, scusate... Da sopra, una volta svuotato tutto lo zaino, è possibile estrarre praticamente tutto quanto all'interno, da qui e da qui, e lo zaino diventa uno zaino completamente vuoto. È abbastanza grande, secondo me non grandissimo. Al fatto di questa tela gommata, in modo da essere abbastanza, secondo me, impermeabile già di suo, ha anche le cerniere, vedete, gommate, quindi devo dire che sono anche abbastanza resistente alle intemperie. Un'altra cosa molto utile, per quando ricomincerò forse a viaggiare, è questa fascia qui. Questa fascia, quando avete un trolley, è una mano santa, perché potete infilarlo nel manico del trolley e rimane in piedi. Invece, spesso a me gli zaini cadevano, rotolavano via, quindi insomma, così effettivamente è molto meglio. Poi io lo condisco, fortunatamente questo zaino, vedete, ha anche delle maniglie, ha delle maniglie qua lateralmente per prenderlo, sia di qua che di qua, e ha un sacco di anellini, diciamo, di tela, a cui io attacco sempre dei moschettoni, ce la fate a vederlo, sì, vedete, dei moschettoni qua, di qua, e l'altra cosa che ho fatto, vediamo un po', l'altra cosa che ho fatto su uno spallaccio è stato mettere, tramite una fascia di velcro, il gancio della Peak Design, e qui ce n'è un altro, questo in realtà è un laccio da polso che in realtà ho fatto io, e quindi sempre con questo, ma è arrotolato a questa fascia qua di tela, spero molto resistente ed è molto comodo per tenere la macchina quando non la uso. Ovviamente la macchina è da quest'altra parte adesso, c'è, che voi mi state vedendo invece con l'Odmo Pocket, qua dentro invece c'è la macchina fotografica, c'è un altro obiettivo, c'è appunto la borsetta che spunta da entrambi i lati, qua sotto c'è un altro obiettivo ancora, sì, ci tengo la X-T3 con in questo momento il 1680 montato, vedete io ho personalizzato molto diciamo l'interno, l'ho piegato perché in teoria dall'altra parte posso anche metterci un'altra macchina, magari trovo esco con anche l'analogica, mentre qui c'è l'obiettivo, non so se si vede, vediamo un po', qua c'è un obiettivo, c'è la copertura che vi danno insieme, la copertura per la pioggia e poi c'è un altro obiettivo e poi c'è quest'altro diciamo inserto arancione, sono altri inserti che vi danno per insomma sempre personalizzare, alcuni sono grigi quelli lunghi che vanno da un lato all'altro e sono gli arancioni questi più piccoli che si mettono in mezzo, io quindi qui metto questa roba qua e poi anche il mio Amato 23, adesso avevo il 1680 perché devo dire qua all'euro un bel grand'angolo è comico effettivamente, adesso questo lo metto qua, facciamo sotto l'obiettivo sennò rigolo la macchina, qui ho sempre la mia tracolla Peak Design che amo molto, qui ci sono anche delle tasche, taschine e taschette, devo dire queste tasche secondo me non sono comodissime, nel senso che ci potete mettere cose piatte, se ci mettete cose troppo spessi, ci avevo messo le batterie, quando andate a chiudere sbattono qui e si fa un po' fatica a chiudere, quindi vabbè diciamo che bisogna stare attenti un po' a quello che ci si mette, ma poi gli zaini vanno insomma bisogna un po' conoscere. Ci sono le tasche laterali che sono molto ampie, qui c'è l'alcol, sono molto ampie, vedete si allargano con questo elastico, poi c'è anche il gancio, questi ganci qui sempre sono anche qui sui lati, ecco una nota strana, devo dire una nota negativa, proprio su questi ganci, che sembrano fatti molto bene, in particolare il mio problema l'ho notato su questi anteriori, vi faccio vedere una cosa, allora questi sono ganci che si staccano in questo modo, qui ci sono appunto i passanti per metterli, se noi prendiamo questo gancio si può staccare da entrambe le parti, io ho provato a metterci il cavalletto, ma ho avuto un po' di difficoltà, se noi andiamo a far scorrere qui dentro il nastro scorre, la cinghia scorre tranquillamente, questo vuol dire che se tirate così finché è piatto non c'è problema, appena girate un po' questi e tirate il laccio si si, adesso se lo faccio poi, vedete, scorre così e va bene, ma il problema è che scorre anche così, quando qui avete appeso qualcosa che si muove molto, questo si allenta completamente, quindi non ho capito bene il senso, non ho capito come lo volevano fare loro, si aprono sempre, se io vado a tirare questo si apre, quindi non capisco che senso abbia, perché lo vuoi però? Che fai sempre cose fatte benissimo, qui ti sei perso un po' su questi ganci, quindi diciamo che non sono ganci, secondo me, per mettere cose particolarmente pesanti, va benissimo per il giacchetto, diciamo, e poi va sempre ripassato qui dentro, assolutamente, se non lo ripassate qui dentro, ve lo perdete sicuramente, se invece lo ripassate qui dentro, sicuramente regge un po' di più, qui ci sono due, diciamo, elasticetti, ecco, così sicuramente legge di più, però vedete che tirando, poi alla fine quello lì un pochino si perde, questa cosa veramente non l'ho capita, e questa è l'unica nota, devo dire, negativa di questo zaino, perché per tutto il resto, invece a me è piaciuto molto, sono molto contento, perché ha una dimensione giusta, ha le due aperture laterali, ha anche lo spazio, scusate, per il computer, qui, uno spazio molto grande, per il computer, e anche per il tablet, cioè uno spazio a doppio vano, uno un pochino più profondo, questo forse è un pochino meno, ma proprio di pochissimo, è un po' più stretto più che altro, ma diciamo comunque sono due spazi molto grandi entrambi, con un'imbottitura in mezzo, quindi insomma, devo dire, dal punto di vista ergonomico, è ottimo anche, qui ci sono delle piccole dentellature, spallacce molto rigidi, cioè resistenti, ecco, poi tutti sono morbidi, però belli larghi, quindi tengono bene anche il peso, devo dire, ieri avevo un sacco di cose, ho preso il cavalletto, alla fine non mi è pesato, insomma, il peso si distribuisce, volendo anche la, una cinghia addominale, la cosa carina è che possono essere nascosti qua dentro, io per esempio questi non li uso quasi mai, quasi, e avere quei cosi che penzolano un po' una palla, invece qui c'è una, diciamo, taschetta, sullo schienale, che appunto li fa sparire, e non penzolano, e anche questa è una cosa che mi è piaciuta molto, perché invece negli altri design, ogni volta non so dove mettere sti cosi lì a rotolo, perché mi si incastrano poi un po' ovunque, quindi ecco, ottimo secondo me, Freeline Bp350 AW, la mia idea è anche di usarlo, non sempre per, non solo per la fotografia, siccome gli spazi interni sono completamente gestibili, pensavo che adesso arriva a questa altezza, diciamo, la parte fotografica, posso togliere l'inserto di questa altezza, in quel caso la parte superiore va, diciamo, può avere spazio fino praticamente a metà, quindi se magari vado in montagna, devo mettere dei giacchetti, devo mettere altre cose, li posso mettere da sopra, e ho molto più spazio, questa cosa non è affatto male, era proprio quello che cercavo io. L'unico, l'unico effettivamente, diciamo, problema, tra virgolette, di questo zaino è che, a parte i gancetti, ma che non potete accedere a tutta l'attrezzatura contemporaneamente, cioè dovete usarlo da un lato o dall'altro, questo, diciamo, è l'unico, tra virgolette, problema, è un problema che a me, diciamo, interessa poco, perché lo zaino lo uso più che altro per prendere le cose al volo, e quindi mi è molto più comodo poterle prendere quando sono in giro, insomma, quindi senza doverlo posare, come ho dovuto fare in questo momento, come ho fatto in questo momento, per farlo vedere a voi, in compenso però, vedete quanto sono grandi le tasche, sono davvero molto grandi, cioè avete visto che aprendola, si accede a tanta dell'interno, insomma, dello zaino, quindi al fine questo problema, questo problema, insomma, del non poter accedere a tutto contemporaneamente è un problema relativo. Adesso vi faccio vedere, appunto, questa mascherina, non so più dove metterla, adesso sono completamente da solo, quindi l'ho tolta, vi voglio far vedere come appunto si prende l'attrezzatura, che secondo me è molto, molto comodo, vediamo un po' se riuscite a vedermi tutto, ecco, basta fare questo movimento e si può accedere alle cose, prenderle, si regge anche così, basta rispostarlo, metterlo un po' bilanciato, potete avere le mani libere e prendere la macchina fotografica senza problemi. Io questa cosa continuo a piacermi molto, è ovvio che per uno zaino magari, o di un professionista, può appoggiare l'attrezzatura da qualche parte, questo non è una cosa utile, ma per chi, come me, la fotografia la gestisce nel frattempo mentre fa altre cose, secondo me, invece il fatto di poter accedere in modo estemporaneo, senza doversi appoggiare, senza cercare un posto, sapendo, ecco, di qua a sinistra tengo la macchina fotografica e gli obiettivi, a destra tengo gli altri accessori, questo è il parco, e veramente era un posto che non avevo mai, non c'ero mai venuto qua, com'è? Che io abito in questo posto e mi perdo un sacco di posti di sto tipo, faccio vedere un altro po', questo appunto il salone delle fontane, questo è un po' un angolo di euro, diciamo, un angolo un po' defilato, però questo, questa struttura, vabbè, come un po' tutte, non è niente male, qui ci sono anche delle fontane, che ora sono, sono spente, però siccome in questo, in questo salone delle fontane, come in molti posti qui all'Eur, fanno congressi, quando, una volta mi è capitato anche di entrare qui, per un evento, e qui dove sto camminando anche scorre, scorre l'acqua, non so nemmeno se, forse non dovrei camminarci, effettivamente, però l'acqua esce da qui e poi va a scorrere, qui, meglio che risalgo sopra, ecco c'era scritto vietato camminare sul mosaico, cavolo c'era un mosaico, ops, dall'altra parte però non ce l'hanno messo il cartello, ce l'hanno messo solo da un lato, e io sono entrato all'altro, va bene, va bene, bene, go, vuoi, Insomma un video un po' metà e metà, metà zaino, metà foto dell'Eur, un quartiere dove sono non proprio qui in questa zona così monumentale, però qua vicino sono cresciuto. Dello zaino ovviamente vi lascio il link in descrizione, andatelo a guardare giù, ovviamente iscrivetevi se non siete iscritti, like se vi è piaciuto il video, condividetelo se pensate che a qualcuno possa interessare magari la descrizione rapida dello zaino. E cos'altro dirvi? Buona fotografia, per un prossimo, ciao!